Oggi raga siamo tornati in un video molto molto particolare Siamo praticamente insieme a Zerbian e Bro Stiamo per fare una partita perché ho scoperto Che dalla season 9 sarà possibile fare una cosa veramente veramente strafiga Vi parlerò appunto direttamente in questo video di cosa voglio fare Comunque sia vi dico solo che riguarderà il pass battaglia e la season 9 Infatti raga se non l'avete ancora capito Forse l'avete già letto dal titolo Dalla season 9 sarà possibile regalare il battle pass della stazione 9 E quindi scoprirete in questo video cosa voglio fare appunto insieme a voi Comunque c'è un po' di gente in questa città C'è un po' di gente Ho giusto un po' eh Io non so che armi prendere Sono morto sono morto Zerbian Ah sopra Zerbian Oh mio dio Zerbian sopra Zerbian sopra Zerbian spara Zerbian Bravo Zerbian Eccolo perfetto Dai non ci posso credere guarda che schifo che aveva C'è Bro che sta per morire Ma io non sto a morire ma che volete da me Hai poca vita Zerbian sopra Uno sopra la casa 30 30 30 30 kill a tu uno Perfetto Due cacchio e l'altro dai mannaggia loro Dai veloce 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 Non ci credo No Sì Ho preso un salto non so com'è Chiediamo anche questo Senti che c'è la pompa Finisci questo intanto Sì sì Però la pompa due cacchio mi è andato Attento eh Dov'è? E qua sotto non vedi è sotto di te Aspetta E qua dentro? Perché lo pusci stanno il pompa mannaggia Gì gì Perché era troppo lù Vai Pompo mio perfetto Let's go Regà Non stiamo giocando male Allora regà con calma iniziamo anche il video eh Possibilmente Jump C'è qualcun altro? Qualcun altro Qualcun altro Qualcun altro Qualcuno ha shieldini? Eh shieldini no Ah forse qui da me È da te zebbi? Sicuro? Eh non so Forse ho visto qualcuno Ma come cacchio è possibile che sei arrivato là giù? Sì da me da me Arrivo 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 Non so se è da 4 però Sì 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 Uno massacrato Uno massacrato Ma guarda hai due cacchio sparo Zebbi 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 Sotto Uno one shot Uno morto Due l'altro Oh l'altro fillato perfetto Mi ha fatto un botto questo eh Manca l'ultimo Termine dov'è E da me E da me No non ci credo GG Così poca vita non potevo fare niente Nice Bella Quattro kill voi quante kill avete? Io due Sei Perfetto Comunque allora di che cosa volevo parlarvi oggi? Praticamente appunto come vi ho appena detto ho scoperto che il passo della stagione 9 appunto sarà regalabile Sarà regalabile gratuitamente Per ringraziarvi di tutto il supporto che mi state dando ultimamente Tutti i supportatori che abbiamo fatto Siamo tipo 150 160 mila Tutti gli iscritti che stiamo facendo perché siete veramente un botto Tutti gli spettatori sulle live del secondo canale che trovate qua sotto in descrizione Tutte le visualizzazioni insomma per ringraziarvi di tutto quello che stiamo facendo Anche i 100 mila follower su Instagram Io ho deciso che regalerò a ben 20 di voi Quindi veramente un numero enorme Un pass battaglia della stagione 9 completamente gratis Ce ne sono appunto 20 in palio Non sono pochi perché io dovrò spendere 200 euro Considerando che un pass costa 100 euro Ragazzi pusciano comunque il pass costa 10 euro non 100 euro E quindi altrimenti ne avrei dovuti spendere 2 mila Non lo so sono un po' sparsi comunque uno dietro di me E qua è Eccolo E ho loro materiali Ok schierato lo stesso Bella raga Andiamo da bro Ci sono altri C'è un altro dietro Corri da bro Chiuso 20 L'ho distratto così non vi spara più Perfetto Moretto Uno sotto bro No 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 mi spara questo Mannaggia lui Ok voi pensate a loro Uno morto Sì sì Oh cacchio Stanno pushando me sono in 3 o 4 non lo so Non ne sono sicuro Te li stanno scuri inserbiamo da te No Sì sono da me bro Te ne posso dare uno se vuoi Però Andiamo da K 20 Cavolo al cecchino questo eh Io ho fatto double 20 Dai guarda questo qua sotto Che mi aspetta con il cecchino Intanto quello Non ci credo L'ho anche detto E mi sono a fa Sono proprio stupido eh Ho un medikit che ha per te Torna indietro Sì mi serve Mi serve Anzi torna indietro Come torna indietro Di venirete da me Arrivo raga Stanno pushando Appacciarmi ora Zerbian il medikit veloce Grazie No non ci credo Ci ha rotto tutto Bravo Zerbian Ascoltami devo fare il medikit No come anche te Zerbian Hai preso il timing Proprio più sbagliato Che potessi prendere Zerbian Ci devi proteggere Non è Spara Zerbian Spara con le tue zampette Non lo rompermi qua Spara con le tue zampette È morto È morto Grandissimo Grandissimo Rubagli la roba Ne ho fatti due Le hai chiedate entrambi bro Sì ne ho fatti due GG Let's go Quanti kill sei bro? 9 Ma cosa? 9 kill GG Io 4 Zerbian Quello forte Comunque ritornando al discorso di prima Voglio regalarvi appunto 20 pass battaglia Totalmente gratis Della stagione 9 Beh ma chi riceverà questi pass battaglia? Voi vi starete chiedendo Domanda legittima Ovviamente raga avrò un metodo di estrazione Molto 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 semplice Come prima cosa basta andare nel negozio oggetti E inserire appunto al ritorno del negozio oggetti Il codice supporto CAP Dato che i pass battaglia sono pochi E voi siete tanti Dovrete fare un po' di cose per riceverlo Ma sono tutte facilissime Quindi prima cosa Negozio oggetti in basso resta Supporta un creatore E inserite il codice CAP Mi raccomando Convincete anche tutti i vostri amici a inserirlo Così anche loro potrebbero ricevere un pass battaglia gratis Ah altre persone Finale di fightar questi Poi vi finisco di dire i vari passaggi Bro Dove hai preso la champion Ma è raga da me bro Eh sì Allora ce ne sono altri qua sotto Stai attento Come un full time da te Zerby Eh sono morto Oh cacchio E beh per forza direi Sto arrivando sto arrivando sto arrivando Guarda quanti cacchio sono Certo c'è quello là Bravissimi Zerby indietro Mannaggia lui dov'è Uno l'ho killato Uno l'ho killato No non ci credo Come ho fatto a missarlo GG Mamma mia raga Quanta cacchio di gente Oh c'è un botto di gente Comunque allora vi stavo dicendo Primo passaggio dal negozio oggetti Di inserire il codice CAP Appunto come supporto a un creatore Ora raga secondo passaggio Beh ovviamente tutto questo Se siete iscritti al canale Avete attivato la campanellina Quindi mi raccomando Tasto rosso iscriviti Appunto quello normalissimo Che dovreste prendere tutti E di fianco la campanellina Comunque vi dicevo Secondo passaggio per ricevere il pass Ovviamente Instagram Mi chiamo CaptainBlazerOfficial E facilissimo Se non ce l'avete scaricatevelo Perché è la vita Instagram Raga Ovviamente se siete molto piccoli Prima chiedete ai vostri genitori Però mi raccomando Seguitemi su Instagram Mi chiamo CaptainBlazerOfficial E questo era il secondo passaggio Oh Zerby A Zerby Guarda che sono trovato Zamp E dai bro stiamo arrivando E vai Ma tanto mi sa che gli ha già killati L'hai già killati bro Ma che hai vanno Saranno un botto Guardali Guardali quanti sono Oh mio dio Vieni sulla casetta Pusciamo 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 Puscia quanto vuoi Ma devi usare una tattica Uno ha killato L'altro Attento Zerby Non ci posso credere Io lancio ganate Io lancio ganate Vi ne sparo un bel po' Uno massacrato Uno massacrato Vai Zerby Vai Zerby Aspetta Io lancio un altro po' Lì dove si bro Guarda quanti gatti sono Attento dalla montagna Gassono un botto No Zerby Non ci credo Da dove 106 metri 106 metri Uno one shot qua Aspetta Bro c'è ne fatta a killarlo Sì sì Lo so tenendo Nice Dietro 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 bro verso Zerby Sparo oltre granate Non ci credo Io mi sto curando Mi sto curando Va bene Ne ho eliminato uno Maut Provare a starmi Provare a starmi 14 di vita Vai ce la faccio Oh Zerby Devi dirmi se arrivano Eh io mi sto curando Aspetta Zerby devi dirmi se arrivano Cacchio Aspetta aspetta Quattro Oh mio dio Oh mio dio Infatti Due cacchio è Vai 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 Chiudimi 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 Ma come chiuditi Hai ragione Hai ragione Hai ragione Via Ok Dov'è Dov'è questo Uno one shot Non credo E là sopra Sono troppi Attento Non c'è la Z Mannaggia sopra Casino No non posso muovermi Ragazzi sono bloccato dall'albero Non ci posso credere Ma sti bag Questo gioco È fatto troppo bene Continua a restare Zerby a non fermarti Zerby a non fermarti Metti muro Mamma mia Oh mio dio Che è Savataggio Zerby a muro È pieno È pieno Oh mio dio Oh Uitato Uitato Trenta Tebro quanti Chi sei al momento Tredici Tredici Cosa Piazza fallo Zerby Piazza fallo Mi dà la dinamite Sveglio ragazzo Zerby nei razzi Per caso Mi sono razzi Zerby Tanto ti andai Ah si tieni Ti lascio di dietro Eh no Mi stiamo adesso Non mi riesce Raga mi stavo perdendo Il ritorno del gioco Comunque sia Il terzo passaggio Per ricevere il pass battaglia Gratuito della stagione 9 Sempre ovviamente Se si potrà regalare E seguirmi sul secondo canale Link qua sotto in descrizione Ci mettete veramente Due secondi Basta premere il tasto Iscriviti E soprattutto Non vi perderete Un sacco di live Nella quale ci divertiamo Veramente un botto Perciò mi raccomando O cliccate sul link In descrizione Oppure cercate su youtube CaptainBlazerLive E seguitemi appunto Su quel canale Questo era l'ultimo passaggio Perciò dopo i passi Riassunto Di cosa bisogna fare Per vincere il pass battaglia Della stagione 9 Completamente gratis E qua dentro Raga raga non killatelo Torniamolo Torniamolo l'ultimo Vabbè siamo 3-1 Guarda 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 È scarsissimo eh Ve lo dico È veramente veramente un botto Aspetta No non ci posso credere Ce ne sono alcuni Che si fanno No bro Cosa fai Bro 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 Adesso si spara Guarda facendo Guarda sta facendo No Bro 32 kill in totale Cosa Eh non fate 18 io 18 Io non fate 8 E te Zerbian Sei Eh dai niente male E quindi raga Detto questo vi rissumo I tre passaggi fondamentali Per vincere il pass battaglia Gratis della stagione 9 Io vi ricordo Che ve lo regalerò Solo se è possibile farlo Al 99% Sarà possibile regalarlo Però ancora ovviamente Non ne siamo al 100% sicuri Detto questo I tre passaggi sono Prima cosa Molto molto importante Andare nel negozio oggetti In basso est Sul portacreatore Ed inserire all'interno Del negozio oggetti Il codice cap Mi raccomando Fatelo inserire appunto Anche i vostri amici In modo tale che anche loro Hanno la possibilità Di partecipare a questo giveaway Secondo passaggio Andarmi a seguire Su Instagram Quindi mi raccomando CapitanoBlesserofficial Su Instagram Terzo ed ultimo passaggio Seguirmi sul secondo canale Link è stato in descrizione Questi raga sono gli unici passaggi Per partecipare A questo giveaway Del pass battaglia Della stagione 9 Vi ricordo che Allergarerò 20 pass battaglia Quindi appunto 20 di voi Avranno la possibilità Di ricevere questo pass Perciò Prima fate questi tre passaggi Meglio è Io raga vi ringrazio tantissimo Per tutto il supporto Che mi state dando ultimamente Questo qui è solo un ringraziamento È solo un modo per ringraziarvi Per quello che state facendo Per me appunto In tutti questi giorni Sono veramente stracontento Di come sta andando Il secondo canale Ogni live che facciamo Abbiamo tipo 15-20 mila spettatori E siamo sempre secondi O terzi In tendenza giochi Stiamo facendo un botto Di iscritti in questi giorni Tipo 2000 al giorno Una cosa del genere Perciò Wow raga Completamente pazzi E oltretutto Vedo che il video Vi stia facendo un casino Perciò sono molto molto contento Io raga vi ricordo Un bel like vi raccomando Se l'idea di regalarvi Il giveaway vi piace Vi ricordo di fare questi tre passaggi Il prima possibile In modo tale che appunto Potrete partecipare Voi e i vostri amici E detto questo Noi ci vediamo In un prossimo video Spero che la partita Vi sia piaciuta Ciao Zurma Ciao